Peter Pan Parte seconda Spadono e Peter, che è spavaldo, è impudente e anche un po' irriverente, come abbiamo detto, si precipita a prenderli soltanto quando stanno per sfiorare il mare o la terra. È veramente terribile. Wendy è preoccupatissima. Ha paura, ma non può tornare indietro. E anche John e Michael hanno un po' paura, ma sanno che devono stare con Peter necessariamente. Campanellino li sta accompagnando. E adesso stanno per arrivare all'isola che non c'è. Wendy aveva già chiesto a Peter dove si trovasse l'isola e lui aveva risposto dicendo che l'isola era la seconda a destra e dritto fino al mattino. Un'indicazione un po' bislacca e infatti Wendy non aveva ben capito dove si trovava. Comunque, per fortuna, centinaia di stelle luminose indicarono l'isola ai bambini e così la videro finalmente. Era un posto meraviglioso. Lo avevano sempre sognato, visto nei sogni, immaginato di giorno e adesso si presentava davanti a loro nel suo splendore più completo. Si vedeva la laguna delle sirene, si vedevano delle barche abbandonate, si vedevano i lupacchiotti nella foresta e Wendy aveva sempre desiderato averne uno. Adesso i bambini erano tutti entusiasti ma purtroppo quando giunsero sull'isola era quasi sera e sul far della sera anche a casa i bambini cominciavano a temere l'isola che non c'è. Era per questo che Mamma Darling metteva i lumini accanto ai loro letti. Peter approfittò del fatto che loro avevano un po' paura e quindi si strinsero a lui e lui si sentì importante per loro. Per farli ancora di più avvicinare disse che c'erano dei pirati proprio sotto di loro e che tra quei pirati c'era il famoso uncino. John e Michael erano entusiasti perché le avventure dei pirati erano sempre state le loro preferite ma avevano paura adesso, avevano paura di incontrarli davvero. Peter comunque disse loro che uncino era un problema suo e che mai nessuno avrebbe dovuto sconfiggerlo al posto suo. Uncino si chiamava così proprio perché durante un primo duello Peter aveva staccato la sua mano destra e adesso al posto delle mano c'era questo artiglio. Campanellino era stata con loro tutto il tempo, purtroppo però la sua luce aveva attirato l'attenzione dei pirati. E così nel silenzio della notte un colpo di cannone squaccia l'aria e sbalza i nostri amici chi da una parte chi dall'altra. Peter viene sollevato fino alle più alte stelle, i bambini invece cadono su una nuvola. Wendy rimane da sola, si ritrova al buio, accanto a lei c'è solo Campanellino. Campanellino approfitta della situazione, dice a Wendy di seguirla. Sappiamo che non vuole fare niente di buono, purtroppo Campanellina è tutta cattiva in questo momento perché è gelosa di Wendy, la porta via con sé. E comunque adesso parliamo un po' dell'isola, vediamo qual è la situazione quando Peter manca e qual è adesso che Peter sta tornando. A quel tempo sull'isola i bambini smarriti erano in sei. Peter aveva proibito loro di apparire simili a lui e così indossavano pelli di orso. Erano rotondi e soffici, quando cadevano rotolavano. Il primo a passare è Flautino, non il meno coraggioso, ma sicuramente il più sfortunato di tutta la valorosa banda. Aveva infatti preso parte a meno avventure di tutti, perché quando accadevano i fatti importanti, lui aveva sempre passato l'angolo appena appena un momento prima. Poi viene Pennino, Gaio e Cortese, seguito da Piumino, che taglia zufoli dagli alberi e balla in estasi al suono delle sue stesse melodie. Piumino è il più presuntuoso dei ragazzi, crede di ricordare il tempo di quando non si era ancora perduto, e quei modi e quelle usanze, e per questo il suo naso è in su, in modo quasi offensivo. Ricciolino è il quarto, è un vero monello, e tante volte ha dovuto accusarsi quando Peter diceva severamente venga fuori chi ha commesso questo, che ormai al comando viene avanti automaticamente, abbia fatto o meno il malanno. Per ultimi vengono i gemelli, che non possono essere descritti perché non si saprebbe mai con sicurezza quale dei due si descrive. I ragazzi si perdono nell'oscurità, e dopo una pausa, ma non lunga, perché tutto procede rapidamente nell'isola, vengono i pirati sulle loro tracce. Ma i tipacci più scellerati si videro appesi sul palco del supplizio. Ecco, un po' più avanti degli altri, ascoltando ogni momento con l'orecchio a terra, le grandi braccia nude, monete d'oro pendenti dagli orecchi come ornamenti, ecco il bell'italiano cecco. Il gigantesco nero dietro a lui ha avuto molti nomi, da quando ha abbandonato il suo, perché veniva utilizzato dalle madri di colore per spaventare i bambini sulle rive del giugio mo. Ed ecco Bill Jux, tatuato dalla testa ai piedi, quello stesso Bill Jux, che mise fuori combattimento sei dozzine di persone sul tricheco. Stark il gentiluomo, che una volta era a Bidelle in una scuola, è tuttora cerimonioso nei suoi metodi di uccisione, è Skylights, è l'irlandese Smith, simpatico strano uomo, che pugnalava per così dire in modo inoffensivo, è Noodler, è Rob Mullins, è Alf Mason, e molte altre canaglie da tempo sconosciute e temute in terra spagnola. Fra di essi la più vera e grossa gemma della tremenda collana stava James Uncino, o come si firmava egli stesso Jazz Uncino, del quale si diceva che fosse il solo uomo al mondo capace di incutere spavento a barbecue, il cuoco del mare. Se ne stava comodo in un rozzo carro tirato e spinto dai suoi uomini e al posto della mano destra aveva un uncino di ferro col quale li incitava di continuo ad affrettare il passo. Il terribile uomo li trattava come cani e come cani loro gli obbedivano. La sua faccia era brunastra e cadaverica, i suoi capelli erano acconciati in lunghi riccioli che di lontano parevano candele nere e davano un'espressione stranamente minacciosa alla sua notevole fisionomia. Uomo di indomito coraggio si diceva però che si adombrasse solo alla vista del suo sangue, che era denso e di colore non comune. Nel modo di vestire cercava di imitare la foggia che è associata al nome di Carlo II, avendo sentito dire in un primo periodo della sua carriera che vi era in lui una strana rassomiglianza con gli sventurati Stuart e teneva tra le labbra un bocchino di sua invenzione che gli permetteva di fumare due sigari alla volta. Ma indubbiamente la più orrida cosa della sua persona era l'altiglio di ferro. Sulle tracce dei pirati, avanzando senza rumore nella zona guerresca, invisibili ad occhi inesperti, vengono i pelli rosse dagli occhi senza ciglia. Portano tomahawks e coltelli e i loro corpi nudi luccicano, unti e dipinti. Legati intorno alla vita portano capigliature strappate a ragazzi o a pirati. Questa è la tribù dei piccaninni, da non confondersi con quelle dei Delaware's o degli Arons, più teneri di cuore. Se ne va Carponi davanti a tutti Pantera il Grande, un prote così pieno di capigliature che ogni tanto gli impediscono di procedere in questa posizione. Alla retroguardia il posto di maggior pericolo viene Giglio Tigrato, superbamente eretta, una principessa autentica e la più bella delle diane nere. Non c'è valoroso che non desideri sposare la capricciosa creatura, ma lei fa sempre a pezzi l'altare con una scure. Guardali mentre passano sui rami secchi caduti, senza fare il minimo rumore. I pelli rossi apparsi come ombre spariscono come ombre ed ecco il loro posto è preso dalle belve, una grande e variopinta processione. Leoni, tigri, orsi e le innumerevoli bestiole selvagge che di solito stanno addosso alle belve, perché tutte le specie di animali, particolarmente quelli che ricevano di carne umana, vivono da buoni camerati nella bella isola. Stasera le belve sono affamate, hanno la lingua penzoloni. Quando sono passate viene per ultimo un gigantesco coccodrillo. Il coccodrillo passa, ma subito ricompaiono i ragazzi, perché la processione deve continuare indefinitamente, finché una delle parti non si ferma e cambia il ritmo. E allora eccole, una addosso all'altra. I primi a uscire dal mobile cerchio furono i ragazzi. Si gettarono tutti insieme sul tappeto di erba che era vicino alla loro abitazione sotterranea. Volevano che Peter tornasse e parlavano nervosamente. Dopo un po', comunque, decidono di ritirarsi nella casa sotterranea. Tutti tranne Pennino, che parte in ricognizione. Non è possibile vedere l'accesso a quella casa. Solo osservando bene, si noterà che ci sono sette grandi alberi, ciascuno dei quali ha incavata nel tronco un'apertura larga quanto il ragazzo. Mentre i pirati avanzano, l'acuto occhio di Starchy vede Pennino sparire attraverso il bosco. E tutta un tratto la sua pistola abbalena, ma un uncino di ferro artiglia la sua spalla. Capitano, lasciami! Era uno di quei ragazzi che odiate. Avrei potuto ammazzarlo. Già, e il colpo avrebbe attirato su di noi i pelli rosse di Giglio Tigrato. Non ho voglia di perdere la mia capigliatura. Io voglio il loro capitano, Peter Penn. È stato lui a tagliarmi il braccio. E qui brandì minacciosamente l'uncino. Aspetto da troppo tempo di stringergli la mano con questo urdigno. E lo farò a pezzi. Peter gettò la mia mano, disse trasalendo, a un coccodrillo che stava passando di là. Spesso, disse Smee, ho notato il vostro strano orrore dei coccodrilli. Non dei coccodrilli, corresse un cino. Di quel coccodrillo. Abbassò la voce. La mia mano gli piacque tanto, Smee, che da allora mi ha seguito per mari e per terre, leccandosi di labbra per quel che gli può restare del mio corpo. In certo modo, disse Smee, è una specie di complimento. Non ho bisogno di complimenti simili, gridò rabbiosamente un cino. Io ho bisogno di Peter Penn, che per primo diede a quella bestiaccia il gusto della mia carne. Stava seduto su un grosso fungo e ci fu un tremito nella sua voce. Smee, riprese aspramente, quel coccodrillo mi avrebbe già avuto, ma per un caso fortunato ha inghiottito un orologio che fa tic-tac nel suo corpo. E così, prima che mi colga, io sento il tic-tac e scappo. Rise, ma il suo riso aveva un suono falso. Una volta o l'altra, disse Smee, l'orologio si fermerà e allora lui potrà appigliarvi. Un cino si inumidì le labbra aride, già disse, questa è la paura che mi assilla. Tuoni e fulmini, io brucio. Un cino salto su. Lui e Smee esaminarono il fungo, che aveva proporzioni e solidità sconosciute nel mondo. Tentarono di tirarlo su. Vi riuscirono subito, non aveva radice. Cosa ancora più strana, cominciò a salire del fumo. I pirati si guardarono. Ma questo è un camino. Avevano infatti scoperto proprio il camino della casa sotterranea. I ragazzi avevano l'abitudine di chiuderlo con un fungo, quando i nemici erano nelle vicinanze. Ma non ci usciva soltanto fumo. Venivano su voci infantili, perché i ragazzi si sentivano così sicuri nel loro lascondiglio che stavano a chiacchierare gaiamente. I pirati ascoltarono, truci in viso, e poi rimisero a posto il fungo. Si guardarono intorno e videro i buchi nei sette alberi. Smee disbigliò. Li avete sentiti dire che Peter Pan non c'è? Un cino annui, sette a lungo perduto nei suoi pensieri, ma alla fine un gelido sorriso gli illuminò la faccia cadaverica. Era quel che Smee aveva aspettato. Ci deve essere una stanza sola qui sotto, perché c'è un solo camino. Quelle sciocche talpe non hanno avuto il buon senso di capire che non c'era bisogno di una porta per ciascuno. Sono degli sprovveduti e questo vuol dire che non hanno una mamma a proteggerli. Stavano per iniziare a cantare, ma un rumore li interruppe. In principio era così lieve che il cadere di una foglia lo avrebbe soffocato, ma avvicinandosi divenne sempre più distinto. Tic tac, tic tac. Un cino rabbrividì, fermo con un piede in aria. Il coccodrillo balbettò e balzò via seguito dal suo amico. Era proprio il coccodrillo. Aveva oltrepassato i pelli rosse, che adesso erano sulle tracce degli altri pirati, e venivano cauti dietro ad un cino. Bimbi, la fiaba continua. Ecco. Grazie a te. Grazie.